bene allora parliamo della spiritualità e la libertà spirituale soprattutto perché molti di voi almeno quanto io so siete sul cammino spirituale tante persone non capiscono che cosa è questo cammino intraprendono questa strada tanto per fare magari alcune parole non sanno ancora interpretare alcune parole non risuonano ancora dentro spiritualità amore libertà umiltà e perché un operatore spirituale dovrebbe sentire dentro queste cose che non devono essere solo le parole vuoti ma proprio un gran bel lavoro interiore per veramente arrivare a fare delle grandi cose arrivare alle grandi scoperte immaginate quanto siamo privilegiati voi non avete mai pensato ma quanto un essere umano avendo il corpo fisico è privilegiato perché se per esempio noi parliamo degli angeli sapete che ogni dimensione comunque ha dei suoi limiti noi siamo limitati nel corpo fisico è una bellissima esperienza ma siamo limitati di fare determinate cose a volte la mente razionale troppo forte per darci questa libertà spirituale che vogliamo però anche nei mondi spirituali vivono delle energie presenze esseri che non possono fare quello che facciamo noi come per esempio gli angeli gli angeli sono delle entità che non sono mai state rincarnate sulla terra loro possono agire attraverso esseri umani però non possono mai diventare essere umani una volta e non ha chiacchierato con un angelo mi ha detto quanto vorrei provare l'esperienza terrena e ho detto senti non è molto semplice perché ci sono tante sfide bisogno lottare poi per sopravvivere poi siamo così fragili nel nostro corpo fisico e angelo detto fa niente anche essere mortale è una cosa bellissima perché io non ho la morte io sono eterno però morire potrebbe essere anche una bella esperienza bella tosta però vedete noi facciamo invidiare anche gli angeli perché abbiamo il corpo fisico buonasera buonasera Anna buonasera Slavio stasera mi sembri molto riposata a proposito di periodo cosa ne pensi delle energie che non sono in giro ora settembre mi sembra una centrifuga sarà così ancora per molto no Anna non sarà così sapete una cosa molto bella infatti parlando della spiritualità e la libertà spirituale che voi potete vivere in quella realtà che voi decidete di vivere perché il mondo attorno a voi è un mondo illusorio in senso che non è un mondo statico perché ognuno di noi vede il mondo dal suo punto di vista dal punto di vista della propria missione delle proprie sbagli delle proprie emozioni anche le vostre stanze dove vi trovate adesso per esempio la casa vostra il vostro appartamento voi lo vedete in un modo però se una persona entra nel vostro mondo vedrà e noterà magari altre cose che per voi magari sfuggono nonostante state vivendo in quel mondo ci sarà sempre qualcuno che vedrà qualche dettaglio diverso proprio perché la sua mente e la sua anima la porta proprio a notare qualcosa che proprio a questa persona interessa perciò il mondo in cui stiamo vivendo non è un mondo che vedono tutti uguali e proprio per questo per settembre che mi avevi chiesto settembre come altri mesi magari un po più movimentato per te però tu puoi uscire da quella realtà e non vedere quei movimenti vedere altri movimenti queste sono sempre le nostre scelte sempre per questo se volete vivere nel mondo magico dovete trovare la magia in ogni cosa in ogni cosa non è semplice perché bisogna cambiare la visione sulle situazioni perché se c'è qualcosa che vi irrita una persona una situazione il mondo un paese che secondo voi non deve avere quelle leggi o chissà che cosa ci sono le situazioni più grandi di noi noi non possiamo cambiare altre persone noi non possiamo cambiare il mondo però se c'è una situazione che noi non possiamo cambiare noi siamo in grado di cambiare il nostro atteggiamento verso quella situazione allora che cos'è la spiritualità e la libertà spirituale quando abbiamo la libertà di scegliere 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 chi vogliamo essere scegliere la nostra strada senza andare dietro le dogme ciò che ci porne la società non è difficile non è facile perché la società ormai per noi è il mondo in cui stiamo vivendo e non possiamo infrangere alcune leggi quelli che sono state create magari anche per la nostra sicurezza se per esempio qualcuno ti dice attenzione non andare a velocità 200 km all'ora perché è pericoloso hai il suo senso e noi se facciamo ah no io sono nella pura libertà faccio quello che voglio lì veramente si può rischiare la vita perciò bisogno un attimino accendere comunque il cervello logico attivare il potenziale della nostra anima anche questa è la libertà spirituale il creatore ci ha dato i talenti a tutti quanti a tutti quanti e dice nella tua pura libertà e scelta tu puoi usarli come vuoi guardi e osservi le situazioni per te o per le altre e usa il tuo potenziale per poter non so creare aiutare trasformare qualsiasi cosa i talenti ne abbiamo tutti quando vedo una persona che mi dice ma io non ho alcun talento io non ho alcuna capacità non è vero questo è perché la persona non è ancora riuscita a fare un bel lavoro su se stesso per poter trovare il proprio potenziale le proprie risorse la vita ci mette davanti delle sfide e dei ostacoli non per punirci ma per poter darci la possibilità quando noi andiamo oltre queste ostacole usando tutto il nostro potenziale cambiando qualcosa dentro noi stessi ci da una soddisfazione pazzesca noi capiamo chi siamo attraverso le difficoltà nella vita però bisogna avere veramente coraggio e osare osare e non cedere osare e non cadere avere questo coraggio di poter trasformare qualcosa dentro di sé sonia cara slave sabato è trapassata una mia cara amica ho pianto tanto mi hanno detto che sono ancora tanto terreno e attaccata alla materia è vero per te no quando noi piangiamo per i nostri cari prima di tutto questo è un rispetto verso ciò che abbiamo vissuto insieme e nessuno mai potrà dirti non piangere quando una persona è trapassata è un atto di spiritualità e dell'amore certo che bisogna vedere quanto dura poi il lutto può durare tantissimo e le persone possono entrare nella depressione e questo non va bene bisogna avere un po di minimo di autocontrollo e bisogna sempre avere qualcuno vicino che troverà per te le parole di guarigione hai fatto bene piangere hai fatto bene pensare alla tua amica e questo non vuol dire che tu sei materiale vuol dire che sei spirituale perché se eri puramente materiale non ti fregava niente essere puramente materiale vuol dire non avere il cuore non avere le emozioni avere solo il cervello ragionamento e essere avere come il cuore di pietra hai fatto benissimo e io ti dico ancora piangi se te la senti perché anche questo porta una libertà accettare la morte piangere puoi accettare e puoi cominciare a vivere ormai senza queste persone ma nella pura consapevolezza lasciando libera la tua anima le tue emozioni e lasciare la libertà anche all'anima che è trapassata questo passaggio è necessario è necessario perciò sei una persona di cuore è una persona spirituale ok credo che mi sono spiegato Sonia io sono moltissimo intuitivo e pensi sia un dono? assolutamente sì assolutamente sì questo dono dell'intuizione il creatore è dato a tutti a tutti a tutti perché l'intuizione è un canale un canale che ci collega con il mondo spirituale con la nostra casa perché noi siamo andati via da casa nostra come anime siamo andati via dal nostro genitore principale quello della suo e cosa dici cosa fa un genitore quando il suo figlio va via almeno nei tempi moderni che stiamo vivendo adesso ti dirà senti prendi un telefonino e quando hai bisogno chiamami e questo telefonino spirituale che abbiamo è proprio il nostro canale intuitivo per essere sempre online con la nostra casa perciò tutti quanti lo abbiamo però non tutti quanti sanno usarlo e per poter capire quale potenziale ha la tua intuizione ci vuole fare un qualche lavoro ci sono vari mezzi per poter scoprire come funzionerà il tuo intuito una di quali magari è anche la meditazione ma meditazione non è soltanto stare in silenzio che va benissimo anche ma nella meditazione molto spesso noi proprio entriamo in questo nostro canale è molto creativo ha un grandissimo potenziale il nostro canale intuitivo o il nostro canale spirituale perché noi vogliamo durante la meditazione avere un insegnamento del mondo spirituale e questo ovviamente è un atteggiamento spirituale perché si può sentire la voce dello spirito soltanto attraverso il proprio spirito soltanto attraverso riconoscere il proprio canale quello che fanno i medium per esempio scusate mi state scrivendo Stefania io quello che sto facendo sto cercando di cambiare essere più forte per arrivare a ciò che voglio sto cercando di guarire la mia anima piango anch'io mi sfogo e poi mi sembri stare meglio sarà così? si Stefania però bisogna vedere anche la lunghezza di questo tuo stato d'animo quando ti fa piangere perché è una bella sfida un conto piangere sopra un evento brutto che è successo da una disperazione capita anche a me possono essere vari emotivi alla fine siamo donne e siamo molto emotivi e a volte abbiamo bisogno proprio di sfogarsi anche attraverso il pianto però una volta hai pianto una volta te sei liberato bisogna voltare la pagina e fare qualcos'altro se si ripetono sempre queste cose c'è qualcosa che non va è come entrare in un loop questa ruota del cricetto senza uscire perciò prova ad osservarti per favore perché te lo sta succedendo dove non riesci a fare un passo avanti per uscire da questa ruota ok allora parlando della meditazione noi chiediamo sempre qualcosa al mondo spirituale fatemi vedere fatemi sentire datemi un messaggio è un atteggiamento spirituale e noi facciamo pura nostra libertà per la nostra scelta però sapete quello che succede molto spesso è quello che sento anche da diverse persone dicono io canalizzo ho iniziato a canalizzare entro in contatto con il mondo spirituale parlo con i miei maestri mi danno tanti insegnamenti tante istruzioni io chiedo bene però perciò tu applichi tutti questi consigli che ti sta dando il mondo spirituale ah no non li applico che senso ha che senso ha chiamare per esempio la guida o chiamare un trapassato o chiamare un angelo fare le domande chiedere e poi dopo non applicare secondo me è una cosa assurda non lo so scrivetemi cosa ne pensate anche voi perché un atto spirituale non vuol dire che soltanto canalizzare ma capire il senso perché lo stai facendo per chi lo stai facendo no perché perché lo stai facendo perché se una persona fa delle cose anche fuori da qualsiasi logica cioè io non capisco per esempio quando faccio i corsi di channeling quando insegno le persone a entrare in contatto con il mondo spirituale io chiedo sempre perché lo stai facendo cosa vuoi dal mondo spirituale ah io voglio imparare da loro che mi danno dei consigli e cosa ne farei con questi consigli ah prima di tutto io li ascolto e poi ci penso ah allora non hai voglia di applicare tutto perché perché chiedere e non fare guardate che per poter che il mondo spirituale vi veni incontro perché vi daranno dei consigli eccetera anche loro diciamo usano il loro tempo per voi loro sono qui per noi certamente ma anche noi siamo per loro è una collaborazione immaginate che voi siete nel ruolo di una guida voi siete tutti quanti guide per qualcuno qui sulla terra c'è una persona che dice senti io voglio imparare il tuo mestiere dammi un consiglio dammi una ricetta come posso cucinare questa torta e tu vai per del tempo prendi il tuo ricettario magari trascrivi alla persona la ricetta perfetta e poi dopo chiedi allora hai usato questa ricetta ha fatto la torta ah no non l'ha fatta e dici porca miseria ma che io mi sono impegnata mi sono impegnata per darti tutto e poi alla fine mi ha ascoltato ma cosa mi hai preso in giro perché mi allora ha chiesto se non avevi neanche intenzione di fare questa torta o chiedono varie metodi di guarigione non dico che tutti ma tanti e magari qualcuno tra voi c'è qui per che ha fatto una cosa un errore di genere non chiedete se non siete pronti a mettere in pratica si può fare diverse meditazioni si può entrare in contatto con la propria anima per farla conoscere per capire che mondo spirituale abbiamo dentro di noi conoscete voi stessi state un po' in silenzio fate qualche pratica della concentrazione dell'attenzione però non chiedete consigli se non siete pronti se qualcuno di voi ha fatto una cosa del genere chiedetevi perché che cosa vi ha spinto di chiedere il messaggio e che cosa poi ha annulato il vostro intento di poter fare di fare un lavoro su voi stessi il lavoro su noi stessi è un lavoro più difficile che esiste più difficile non pensate che io sono ideale no, 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 no io non sono perfetta per niente io magari sono peggio di voi in alcune cose anche io ho qualche mio principio qualche, non lo so qualche abitudine con quali è molto difficile combattere io mi riconosco però le riconosco ognuno dei miei difetti perché anche questo è un atteggiamento spirituale è capire i punti forti e i punti deboli propri perché così saprai cosa aspettare anche da te stessa non per avere super controllo su di me no, no, no ma per poter conoscermi chi è Slavi? sapete che la domanda più spirituale che esiste e la risposta di quale non abbiamo mai trovata è proprio chi sono io chi sono io non cosa faccio nella vita ma chi sono io i ruoli che abbiamo cosa abbiamo dentro ciò che abbiamo di debole questo è curioso Luisa a me piacerebbe avere i messaggi per poi darli alle persone interessate diventerebbe una missione per me bene bene e allora sia pronta Luisa che qualcuno non seguirà i consigli della guida poi tornerà da te e ti farà le stesse domande e magari la guida dice ma scusami mi avevi già chiesto ti rispondo ugualmente perché mi è capitato già le persone che venivano da me facevano delle domande poi ritornavano facevano ancora le stesse domande poi di nuovo facevano le stesse domande e poi alla fine le guide dicevano ma scusami ma che cosa vuoi da me se tu sai già tutto vuoi solo una chiacchierata? vabbè non ti racconto qualcosa almeno so come sei fatta però non chiedermi più i consigli perché tanto non li segui noi non siamo qua solo per chiacchierare siamo qui per farti crescere e farti capire qualcosa una volta che mi è successo proprio poco tempo fa la guida mi doveva arrivare una persona nel centro per il channeling e notte prima stavo dormendo e mi sono stata svegliata dalla guida dalla sua guida chiedere non mi ricordavo neanche chi era perché cioè non è che mi ricordo guida di tutti mi ha detto guida di chi è e ha detto io non verrò a questa a questa seduta io ho detto ma come non verrai? cosa vuol dire? cosa ho fatto di male? no 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 non tu questa persona che sta continuamente chiedendo la stessa cosa mi scambia il ruolo con qualcun altro perché io sono qua per farlo crescere invece questa persona sta chiedendo a me alla guida spirituale tutto quello che riguarda la sua il suo lavoro il suo business e la guida dice io non faccio marketing io non faccio queste cose e lui non può parlarmi di come fare un'etichetta di come creare il logo perché io non sono grafico non ha capito niente di me nonostante ho cercato di spiegare quale avete capito? e io la mattina ho chiamato queste persone e ho detto che il nostro appuntamento è annullato perché la guida ha detto se io non faccio quello che mi viene chiesto chiuderei il mio canale e ho detto ma come? non è possibile non puoi chiudermi il mio canale e la guida dice così impari anche tu impari anche tu di capire come funzioniamo perché noi siamo per tutti però abbiamo bisogno il rispetto abbiamo bisogno ascolto e dovete capire il nostro ruolo e io ho detto subito alla persona no guarda mi dispiace non posso fare un lavoro per te ecco succede anche questo anche questo e bisogna avere anche il coraggio il coraggio di osare io ho dovuto mettere tanto coraggio per poter sia spiegare alla persona questa cosa per annullare appuntamento perché io non sono così io come slavi non sono così io sono pronta ad aiutare tutti però dall'altra parte ho fatto la promessa al mondo spirituale di ascoltarli e mettere in pratica quello che mi viene suggerito per migliorare me stessa e per dare alle altre quello che le serve perciò se io dicevo si si guida va bene ok però per la vergogna magari di disdire questo appuntamento lo facevo comunque la seduta la facevo comunque perdevo la fiducia del mondo spirituale fiducia che ho costruita con loro per tanto tanto tempo dobbiamo essere coerenti tra quello che noi promettiamo a loro e tra quello che facciamo la coerenza fa parte della libertà spirituale la coerenza non ci dà dei limiti ma ti metti metti in una certa disciplina tutta tua l'onestà anche con te stessa e con le tue parole almeno io vedo così sogna come si fa a intercedere con la guida c'è un metodo per farsi di sentirlo non è importante il metodo ma capire che cos'è il mondo spirituale chi sono gli spiriti guida o i trapassati in che mondo stanno vivendo cioè avere più informazione che tipo di energie sta emanando quel mondo che regole ci sono in quel mondo e quando io capisco quando tocco con la mia energia con il mio cuore con il mio amore quella dimensione che ho cominciato a conoscere il contatto viene a sé il contatto viene a sé bisogna mandare amore nel mondo spirituale per poter costruire con loro il rapporto ma come può un essere umano così tanto limitato amare qualcuno che non l'ha mai visto come anche per operatori spirituali come puoi voler bene o amare una persona che viene da te per una seduta se tu vedi queste persone per prima volta e questa è la cosa principale di un operatore spirituale per poter mettersi in contatto con il tuo ospite per poter cliente ospite chiamiamolo come vogliamo voler bene a queste persone già soltanto perché ha scelto te perché tu le farai la seduta non è semplice non è semplice perché abbiamo tanti pregiudizi e abbiamo giudizio di valore quando vediamo davanti a noi una persona noi magari la osserviamo anche dal punto di vista psicologico e ci sono delle cose che a noi non possono non piacere come il vestito il suo odore non lo so tante cose e dimentichiamo di volerlo bene e ci autosabotiamo per poter avere una buona connessione con questa anima anima perché è questo che è importante e non tanto l'aspetto fisico anche non proprio l'aspetto fisico ma solo l'anima che ci interessa solo l'energia di queste persone ma quante persone diventano dipendenti dal messaggio prima abbiamo parlato che chi chiede messaggio però loro poi non frega niente ma ci sono le persone opposte quelle che invece chiedono tantissimi messaggi e per loro questi messaggi diventano una cosa più importante della loro vita non osano fare qualcosa con la testa propria prima che un sensitivo un medium un channeler o in generale qualche segnale del mondo esterno non darà una risposta le persone hanno paura di prendere delle responsabilità sulla propria vita e per questo cosa fanno? cominciano a chiedere la dipendenza in questo non è una libertà spirituale nonostante tanti dicono oh io sono una persona molto molto spirituale io parlo con l'universo chiedo sempre ogni cosa all'universo ok perché è la tua testa dov'è? tu da solo riesci a prendere qualche decisione fare qualche scelta o sempre qualcuno per te deve decidere e dirti quello che deve fare dov'è la libertà? sì è bello un atteggiamento verso varie sfere spirituali però come sempre bisogna avere un po' di buon senso in tutto io conosco una persona che è proprio dipendente dal segnale da fuori per ogni cosa o io ho visto numero 3 cosa vuol dire? non lo so no guarda il numero 3 mi dice questo ok ho fatto la domanda mi è arrivato e adesso devo fare quello che devo fare ok va bene Slavi cosa ne pensi se adesso io chiedo alla guida questo 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 va bene chiedi però non ogni giorno ma ci sono le persone che fanno ogni giorno e non riescono a vivere senza vedere un messaggio che dirige la loro vita quotidiana non va bene questa non è libertà no no la libertà è anche assumere responsabilità da soli per proprie parole per le proprie azioni anche se sbagliamo ma che è fighissimo sbagliare sapete perché? perché se voi sbagliate voi sapete poi cosa vuol dire bene cosa vuol dire male come si può non lo so mettere a posto questa situazione come si sta male quando sbagliate come si sta bene quando riesce a rimediare tutto sono tutti insegnamenti dobbiamo sbagliare io dico sempre ai miei studenti non vi scoraggiate quando sbagliate fare un determinato esercizio possono essere 10.000 motivi perché proprio adesso questo esercizio non siete riusciti a fare ma se voi subito vi arrendete e dite no non ci proverò neanche perché mi è arrivata la paura ansia caspita io non ce l'ho fatta prima volta che stai facendo questo esercizio abbi pazienza pazienza no di cui abbiamo parlato prima però no le persone poi cedono e dicono no non è una cosa per me la mente chi ci sta ancorando ancora qui di essere troppo terreni ho detto quanto è bello essere terreni quanto è bello avere il corpo fisico perché il vostro corpo fisico vi fa godere questa esistenza con buon cibo non cibo da mcdonald's scusatemi ogni tanto vabbè può stare però immaginate che la vita vostra vita spirituale può essere paragonata al cibo ok esempio cosa preferite andare un attimo al mcdonald's prendere le cose che sapete che non sono le cose sane riempiendo lo stomaco perché avete fame e perché non avete il tempo di cucinare oppure cucinare con le vostre proprie mani mettendo quella salsina che volete una certa quantità di sale e delle spezie o tornare a casa e non lo so trovare anche la cena pronta fatta con le proprie mani prendete il pollo voi avete mai provato il pollo fatto nella griglia da un supermercato il sapore è sempre lo stesso sempre lo stesso lo fanno sempre con la stessa ricetta e quando voi fate questo pollo a casa vostra mettete al forno un gusto completamente diverso per esempio la spiritualità è questa prendo un pezzo subito per abbuffarmi anche se a me non fa bene ma io lo voglio perché ho fame oppure avere il tempo per cucinare un piatto piatto perfetto quello che voi poi gustate veramente un esempio così che mi è venuto perché il nostro corpo fisico ci aiuta a gustare ci aiuta anche ragazzi anche fare amore anche fare amore questo può fare soltanto il corpo fisico per sentire quell'emozione quel tocco fisico proprio tangibile e poi il nostro corpo fisico è molto generoso perché non è soltanto produci scusate il liquido per poter poi assimilare no ci da il piacere cioè immaginate e anche questo è stato pensato dal creatore godete godete il vostro corpo fisico spirito e materia sono unite dentro di noi unite perciò bisogna godere o almeno provare a godere entrambe parti entrambe parti perché se non fai una cosa poi ti manca l'altra se non fai solo questo ti manca quell'altra parte Nadia Slavi il fumare può deviare dalla spiritualità qualsiasi dipendenza fa male qualsiasi dipendenza fa male togli la libertà perché noi siamo sotto il castigo della forma della nostra dipendenza qualcuno entra in questo castigo e vabbè vedi meno male non voglio smettere sei tu a decidere tu vivi questa vita che per te vale la pena vivere in questo modo noi sappiamo quanto la vita per noi è importante e ognuno lo sa quanto la vita è preziosa e tutti quanti sappiamo che prima o poi moriremo in che modo moriremo ovviamente dipende dalla qualità della nostra vita scegliete voi se questa qualità della tua vita ti piace come piace a me la qualità che per adesso ho scelto e allora l'importante è che tu godi le tue scelte pensate con la propria testa la nostra spiritualità ci deve dare leggerezza forza, pace questo che è importante guardate quello che state vivendo ci sono le cose che vi disturbano che cosa vi sta disturbando o chi vi sta disturbando e perché non avete avuto il coraggio ancora per poter togliere quel disturbo che vi disturba nel vostro sviluppo spirituale che non vi fa avverare non so i vostri sogni desideri che non vi fa usare il vostro talento noi siamo abituati prima di tutto abituati non tutti ma tanti pensare subito agli altri in senso e se io faccio così le altre cosa ne pensano io non voglio fare male all'altro perché se io faccio per queste persone questo chissà cosa penserà di me chissà come saranno le sue azioni io non posso dire no a queste persone perché si offende o se volete essere liberi pensate a voi stessi perché quando voi siete liberi voi siete felici e il mondo attorno a voi lo vedrete attraverso gli occhi della vostra felicità e vedrete nel mondo esterno soltanto le cose belle immaginate quanta energia e luce positiva in mani una persona felice quando non hai problemi e attorno ci saranno sempre le persone tanto felice perché simile attrae simile chi di voi può dire che siete una persona felice perché anche questa è una scelta essere felice o non essere felice per essere felice bisogna pensare a se stessi bisogna amare se stessi i propri desideri la propria volontà di crescere non sono unica a darvi questi consigli tante persone dicono ma anche voi sicuramente avete dato questi consigli ma anche alle altre persone però dando i consigli bisogna essere coerenti perché sennò non sarete credibili una volta una ragazza mi ha detto senti Slavi io ho prenotato una seduta da una bravissima bravissima sensitiva che legge le carte veramente fantastica vieni con me dai perché ho prenotato per due ma la mia amica non può venire vieni tu e io ho detto no lei perché sei sempre così curiosa a vedere anche come lavorano le altre persone e ho detto ma io non so cosa chiedere io non ho per lei le domande io non ho problemi perché io risolvo sempre i problemi che man mano arrivano e non do la possibilità al problema di essere trascinata al tempo più lungo no perché non voglio perdere tempo per questo per pensare a quel problema io cerco di risolvere subito ci sono certamente le situazioni che richiedono più tempo però io so che ce la faccio lo so perché conosco gli strumenti che ho dentro se io non riesco io so a chi chiedere perché io oso chiedere aiuto ma non perché voglio scaricare la mia responsabilità sull'altra persona prima penso sempre se ce la faccio io provo provo una volta provo due dieci volte provo in vari modi e se non riesco allora a questo punto chiedo a qualcuno che è capace ci sono delle cose tecniche computer le cose che posso anche non capire provo comunque perché voglio capire come ho fatto questo sito come si fa il sito poi dopo capisco che mi mancano delle informazioni se no faccio un disastro e allora chiamo un tecnico chiamo qualcuno che si intende si può sempre trovare una soluzione e dormire poi tranquilli e non andare poi da sensitivi io sono molto felice quando le persone che vengono da me dopo un po' spariscono e io dico meno male che la persona ha trovato la sua serenità ha trovato le sue risposte ha fatto qualcosa per se stessa e adesso non ha problemi non ha problemi è una cosa bellissima per me come operatrice vuol dire che ho veramente aiutato ok bene sogna perché io penso a me stessa ma mi viene spontaneo aiutare dare amore alle altre ma è certo ma è certo che è bello aiutare altre persone ma quando una un operatore infelice quando un operatore è pieno di problemi come fa ad aiutare l'altro a cento per cento dando a questa persona il suo la sua attenzione un consiglio giusto pensando magari ecco adesso ci sono questi problemi che sono pieni di problemi che magari qualcuno aiuta a me porca miseria cioè non sei mai più al tuo potenziale al cento per cento quando ci sono i problemi e per quello gli operatori prima di tutto devono pensare a se stessi ma secondo me tutti quanti ma questo non è egoismo egocentrismo no questo è un sano ego che vuol dire io ci sono io so che mi serve questo lavoro io so che mi serve questa trasformazione è un rispetto verso se stesso prima di tutto rispetto ai miei spazi rispetto ai miei talenti rispetto me stessa amore non permetto che nella mia vita entra qualcosa che cerca di rovinare questa serenità e questa armonia che io ho creato per me e così come voi siete felici qui sarete felice anche nel mondo spirituale capite melena scrive vero nessuno ci impedisce di essere felice né di qua né di là bravo che sincronicità io voglio morire felice con il senso con il pensiero che io ho fatto tutto il possibile e morire con il sorriso dicendo io ho amato questa vita e adesso amerò il mondo spirituale e come ho risolto tutto qua anche il mondo spirituale risolverò qualsiasi cosa ok osate osate nella vostra libertà spirituale io vi faccio tantissimi auguri su questa strada non semplice ma molto molto affascinante pensate con la vostra testa prima di tutto fate i vostri passi cadete sbagliate ma poi vi rialzate con una nuova consapevolezza perché da questo caduto sicuramente avete imparato qualcosa e avete trovato anche un nuovo strumento bene adesso vi saluto grazie mille per la vostra attenzione e ci vediamo al mese prossimo grazie ciao buonanotte a tutti grazie